Bene, allora visto che ci teni tanto a perdere, vado per l'imbranata. Ho seduto principesse e cameriere. E sai cosa? Sono tutte uguali. 24 rose perché sei nei miei pensieri ogni ora del giorno. Ognuno ha il suo punto debole, quella cosa che fa palpitare il cuore più di ogni altra. Fiori la mattina, telefonata la sera. I fiori erano bellissimi, grazie. Tu hai bellissima la festa di mia sorella. Ora sentite i brivi che vada con un pizio. L'ultima fanciulla è caduta tra le mie braccia, ciao. Ci sono in ballo 50 metri di rosso, ancorati a cappantino. Bella, buona, brava, generosa. La moglie perfetta. Un sangue imbranato e dilettante col cuore che palpita. Quando la povera Nicoletta andrà a letto stasera, continuerà a rimuginare sulla nostra telefonata. Dai tempo al tempo. Quindi donna richiede una strategia. Non esiste sfide troppo difficili per me. Tu puoi essere l'asticella quanto vuoi, non c'è ostacolo che non riesco a superare. Dove? Proprio per questo che mi piace questa sfida. Sarà lunga e dovrò essere molto paziente. Pensare a me ogni singolo istante. Prima che non mi farò vivo, quando lo farai. Sarà pronta a qualunque cosa per dire sì. Ciao!